ok salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un nuovo video molto breve questo è un video che viene ecco adesso ho cominciato a parlare e il moscerino ha deciso di attaccarmi la bocca quando non mi va via la voce ma attacchi di moscerini insomma in qualche maniera devo essere perseguitato allora questo è un video molto breve che è indirizzato solamente unicamente tassativamente a una categoria di persone credenti che che dir si voglia quindi solamente a circa 200 persone che più o meno sono quelle 200 persone che sono parte integrante di questo canale così come magari sarete anche parte integranti di altri canali nessuno ve lo impedisce anzi quello che vi dirò che vale per questo canale se siete parte integranti al cento per cento anche di altri canali applicate anche agli altri canali in questi principi biblici che dio esige da voi quindi torno a ripetermi questo video è rivolto unicamente tassativamente a quelle circa 200 persone che sono parte integrante dei miei canali ok cioè che voi che voi sia che siate giovani nella fede sia che siate anche anziani nella fede che ci sono diversi anziani non pochi anziani e ministeriati non siete pochi anche in europa dell'este svizzera germania e italia quindi vale per per tutti voi quando fai parte c'è che tutti voi che vi vi cibate vi cibate di quest'opera perché voi mangiate ok del della manna spirituale così come anche io mi cibo ok di altre di altre opere assolutamente sì perché nessuno è senza come dire istruzione ok infatti nello specifico vabbè io negli anni o insomma di dio sa anche io a sua volta faccio parte ok di altre opere quindi parlare e bene è importante quello che esce dalla bocca è molto importante ma parlare solo non basta bisogna agire ok che tu mi dici bravo hai ragione che dio ti benedica eccetera eccetera va bene gloria a dio anche quello è un frutto però bisogna anche andare un pochino oltre ok e quindi voi davanti a dio dice il signore avete degli obblighi ok quindi in che maniera dovete operare perché con con le parole non si fa nulla quindi bisogna agire quindi torno a ripetermi voi avete degli obblighi quindi immagino che siate dei cristiani e quindi dovete operare quindi visto che assiduamente queste 200 persone seguono video dopo video o almeno il 90 per cento dei video la prima cosa che dovete fare materialmente parlando e ogni video che esce dovete mettere un like un mi piace perché perché quando tu metti il mi piace io prima queste cose non le dicevo perché non le sapevo e quindi non me ne importava nulla dei dei mi piace anzi andavo più a cercare di non mi piace perché vuol dire che il video è arrivato dove deve arrivare ma quando ho saputo che mettere un mi piace significa far sì che youtube poi vada a raccomandare il video ogni mi piace che tu metti youtube raccomanderà quel video una volta quindi se metti 10 se ci sono 10 mi piace youtube raccomanderà il video dieci volte così via discorrendo quindi la prima cosa che dovete fare voi circa 200 persone che seguite questo canale assiduamente e mettere il mi piace e non lo fate perché se tu vai sotto i miei video su 500 visualizzazioni ci sono 30 40 50 mi piace non ce ne sono 200 e le persone che seguono assiduamente questo canale sono circa 200 come mai dove sono gli altri perché non state operando perché vi cibate solamente e non date il cibo agli altri perché non entrate nell'opera del signore e poi magari dite signore usati di me ma come fa il signore a usarsi di te apro una parentesi per fare un esempio quando una persona entra nella tua comunità faccio un esempio e tu manca un sorriso gli fai e lo guardi in cagnesco questa è una battuta ma queste cose avvengono quindi se voi siete 200 come mai non ci sono 200 mi piace in maniera tale che youtube possa raccomandare il video questo è un rimprovero quindi non te lo posso dire con il sorriso te lo dico con amore con serenità ma con autorità stai sbagliando non stai servendo il signore e non mi dire che i miei video non sono di edificazione perché se li segui tutti perché li vedo i numeri sono questi infatti non faccio non porto cifre tipo mille mille cinque otto cento no 200 persone e quindi sei carente e mancante davanti a dio e non ti voglio fare il lavaggio del cervello ti sto presentando la dottrina potendo fare il bene non lo fai commetti peccato chi avrà dato un solo bicchiere d'acqua quello gli sarà messo in conto e tu non metti un mi piace ma ti devi chi non lo fa si deve solo che vergognare ma non davanti a me davanti a dio ma questo non vale solo per me se tu fai ti cibi di un'opera che sia l'opera di alessio evangelisti che sia l'opera di fabrizio evangelisti che sia l'opera del fratello daniele salamone eccetera 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 tu devi agire non puoi essere passivo il cristianesimo non è passività questo lascia glielo credere alla religione secolare quelli del dell'occidente pseudo cristianesimo ok non esistono cristiani non praticanti questo esiste nella mente di chi ignora cos'è il cristianesimo il cristianesimo è azione punto numero uno punto numero due dati da fare fai qualche cosa creati creati una uno spazio youtube come fanno alcuni crei delle playlist e se non sei capace avrai nipoti eccetera che ti possono insegnare e metti questi video qui falli circolare se hai una pagina facebook io non ce l'ho condividi nella pagina facebook insomma fate qualche cosa per l'opera di dio non siate passivi raccomandateli se conosce qualcuno mandaglielo tramite mail vedete insomma agite fate qualche cosa non potete essere inermi è impossibile ce l'ho ripeto solamente con quelle persone che si cibano di questo canale assiduamente cioè che fanno parte di questa opera voi dovete sostenere l'opera di dio altrimenti che cristiani siete così come io faccio con altre opere la stessa cosa dovete fare voi che non è che solamente noi servi dobbiamo servire no no i cristiani siamo tutti servi e tutti serviamo ma ciascuno nel suo ruolo nella sua capacità nel suo impegno nel suo tempo e chi più ne ha più ne metta scusate il tono scusate fa un po anche parte del mio carattere ma qui non si sta giocando anche perché le anime si perdono e non c'è da giocare non c'è da perdere tempo non c'è da fare poverino poverino sì po dio mi mi offende il tuo tono se ti offende il tuo tono cerca di nascere di nuovo questa è una battuta quindi fate qualche cosa quello che nelle vostre possibilità fate qualche cosa perché non è possibile io sono anni che mi sgolo io con il vostro like io alessio evangelisti personalmente non ci faccio nulla non so cosa farmene personalmente ma dal momento in cui con un mi piace tu raccomandi il video e qualcun altro lo può vedere tu stai chiudendo la porta del regno dei cieli scusate questo lo dico in senso lato se l'esempio non è corretto fate qualche cosa se tu guardi i miei video hai un telefonino per almeno c'hai un telefonino bene assiduamente tu guardi tutti i miei video fai qualche cosa perché qui stiamo nel mondo tecnologico poi nella nostra vita privata nel nostro intorno quello è un altro discorso e ognuno di noi sa quello che fa come lo fa perché lo fa in che modo lo fa e quello non è un affare mio e non è un affare di nessuno quello che fa l'altro ma sulla piattaforma è qui che noi interagiamo e quindi io mi rivolgo alla piattaforma molto semplice il signore sa per aprire la sua chiesa e vuole che questo vangelo sia annunciato a tutto il mondo e questa è una delle maniere più efficaci per arrivare a tutto il mondo perché non c'è una sola nazione dove l'evangelo grazie anche a questa piattaforma non sia entrato si si di infatti io vi ho detto in uno degli ultimi video che persino una volta ho avuto una visualizzazione una dall'afghanistan questa persona che ha visto il video che sicuramente sarà stato un italiano a sua volta avrà potuto parlare con qualcuno perché anche in afghanistan c'è la chiesa del signore perseguitata in questo momento stanno nelle montagne e c'è un fratello che sta il puerto rico la la nazione di ghigliavina che sta in contatto con questi fratelli questo pastore ok datti da fare non stai facendo un favore a nessuno stai semplicemente facendo il tuo dovere il tuo lavoro e quando avremo fatto il nostro dovere il nostro lavoro possiamo tranquillamente dire servo inutili siamo dio ti benedica shalom maranala